Tragico incidente sul lavoro questa mattina a Figline Valdarno in via Brodolini, nell'area industriale di Lagaccioni. È successo intorno alle 10. Un uomo che stava operando in una ditta della zona è rimasto schiacciato da un muletto che si è ribaltato all'esterno dello stabilimento. Sul posto si sono portati subito i soccorsi. Nonostante le manovre di rianimazione effettuate prima dal personale dei vigili del fuoco del distaccamento figlinese e poi da quello sanitario è purtroppo deceduto. La vittima è l'imprenditore Maurizio Gori, 58 anni, di Cavriglia. Sul posto, oltre al 118 e a pompieri, anche carabinieri, la polizia municipale e la ASL con la medicina del lavoro. La dinamica dell'incidente è al baglio degli inquirenti. Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha espresso cordoglio per l'ennesima morte sul lavoro registrata in Toscana nell'arco di pochi giorni. La sicurezza sul lavoro deve essere garantita. Si tratta di un diritto assoluto e non negoziabile, ribadisce Mazzeo. Non si può morire mentre si svolge la propria attività. È inaccettabile che nella nostra Toscana, impegnata sul fronte della sicurezza e della prevenzione, in solo una settimana si siano registrati sei incidenti sul lavoro, due dei quali mortali. Un altro giorno tragico per la nostra comunità, ha scritto il sindaco di Cavriglia Leonardo degli Innocenti Ossanni. Questa mattina è infatti un amico, un lavoratore, un imprenditore del nostro territorio morto a causa di un incidente sul luogo di lavoro. Saranno le autorità competenti a fare luce sull'esatta dinamica dell'incidente che ha portato alla morte di Maurizio, però mi sento di abbracciare con tutto il cuore la moglie, la famiglia e in particolare il figlio Riccardo che ha collaborato con me professionalmente e con il quale abbiamo avuto importanti esperienze assieme. Saremmo un paese davvero civile, termina il primo cittadino di Cavriglia, quando avremo azzerato le morti sul lavoro ed avremo evitato tragedie, come quella che oggi ha scosso tutta la nostra comunità e tutto il Valdarno con la scomparsa del caro Maurizio, che lascia un vuoto incolmabile in tutti noi.